voglio presentarvi oggi un ritmo africano che si chiama cucù eccolo si compone di slap basso e poi due tune con questa successione ritmica mano sinistra, slap, basso, sinistra, destra e quella è l'entrata, la prima che ho fatto, prima del cucù, è l'entrata il largo, stritto grazie e buon lavoro